Legge di equilibrio della leva. Riportiamo potenza, braccio della potenza, resistenza, braccio della resistenza e vediamo che il prodotto della potenza per il braccio della potenza è uguale al prodotto della resistenza per il braccio della resistenza. La leva è in equilibrio quando il prodotto della potenza per il suo braccio è uguale al prodotto della resistenza per il suo braccio. Quindi poniamo P uguale 1, BP uguale 90, R uguale 9, BR uguale 10, abbiamo 1 per 90 uguale 9 per 10. Se abbiamo R uguale 9 e BR uguale 50 e BP uguale 50 possiamo ricavare appunto P che è la potenza che è uguale a 9. Se abbiamo R uguale a 9, BR uguale 70 e BP uguale 30 possiamo ricavare dall'eguaglianza P che è uguale a 21. Condizioni di equilibrio della leva. Una leva in equilibrio quando il prodotto della potenza per il suo braccio è uguale al prodotto della resistenza per il suo braccio. P per B uguale R per BR. P per BP uguale R per BR possiamo portare a destra dell'eguaglianza BP P uguale R per BR su BP. Portiamo a sinistra dell'eguaglianza R e vediamo che P fratto R è uguale a BR fratto BP. Pertanto il rapporto tra potenza e resistenza è uguale al rapporto tra braccio della resistenza e braccio della potenza. I tre generi di leve. In tutte le leve sono presenti fulcro, potenza e resistenza e il prodotto della potenza per il braccio della potenza è uguale al prodotto della resistenza per il braccio della resistenza. In base alle posizioni di questi tre elementi possiamo avere tre tipi di leva e vediamo. Innanzitutto leve di primo genere per cui il fulcro si trova in mezzo tra potenza e resistenza. In questo caso il fulcro è posto al centro o più in prossimità della resistenza o del punto di applicazione della potenza e in base alla lunghezza dei bracci possono essere leve vantaggiose svantaggiose e indifferenti. Ad esempio le forbici è una leva vantaggiosa perché possiamo vedere che preso il fulcro, preso il punto di applicazione della potenza e il punto di applicazione della resistenza possiamo vedere che il braccio della potenza è maggiore del braccio della resistenza e lo stesso avviene con le pinze. Il braccio della potenza è maggiore rispetto al braccio della resistenza. Ci sono poi le leve di secondo genere. Prendiamo la potenza vediamo che la resistenza si pone andando verso destra dopo la potenza e poi viene il fulcro quindi la resistenza si pone tra potenza e fulcro. La resistenza in questo caso posta al centro fa sì che il braccio della potenza sia sempre maggiore rispetto al braccio della resistenza quindi queste sono leve sempre vantaggiose. Vediamo ad esempio lo schiaccianoci è una leva vantaggiosa vediamo potenza resistenza e fulcro oppure la carriola anche in questo caso la potenza è il punto in cui viene presa e afferrata la carriola la resistenza il peso di ciò che trasporta il fulcro è la ruota. In questo caso possiamo vedere che il braccio della potenza è maggiore rispetto al braccio della resistenza. Ci sono poi leve di terzo genere in cui invece è la potenza che si trova in mezzo tra resistenza e fulcro. La potenza in questo caso fa sì essendo al centro fra resistenza e fulcro che il braccio della resistenza è maggiore rispetto al braccio della potenza. Sono sempre leve svantaggiose. Facciamo l'esempio la pinza per il ghiaccio dove vediamo che c'è il fulcro nella parte destra c'è la resistenza rappresentata dalle pinze e dal ghiaccio in modo particolare e il fulcro è il punto centrale. Lo stesso avviene con la canna da pesca dove il peso del pesce rappresenta la resistenza il punto in cui viene tirato il filo rappresenta la potenza e poi abbiamo il fulcro che è la base della canna da pesca. Anche in questo caso vediamo che il braccio della resistenza è maggiore rispetto al braccio della potenza. Archimede quando scoprì la legge delle leve disse datemi un punto di appoggio e solleverò il mondo. Per la leggenda grazie alla leva riuscì a mettere in mare un'imbarcazione per il re gerno secondo e sempre per il re creò e perfezionò la catapulta arma che sfrutta il principio della leva.